Per Battisti, quando dobbiamo girare ancora? È questione di minuti! Enrico, quanto ci vuoi per Battisti? Ciao! Senti, io ho già comprato da voi Tempel Love nella versione di Gloria Jones. Volevo sapere se avete anche quella di Soft Channel. Ah, e poi di New Romantic che mi consigli? Allora, per quanto riguarda la prima cosa che hai detto, non dovrebbero esserci problemi. Per quanto riguarda la seconda... Avalon. E Roxy Music. Avalon? Che consiglio è Avalon? E allora trovi degli Spandau Ballet. Oddio, ma mi direi io di Duran Duran? No, infatti stavo per dire Forever Young degli Alphavi. Ah, non direi le Contrattime dei Kaltor Club? Genna, Ultravox. Tu sai allora. Eh vabbè. Tasi cercate. Mad World. Tears for Fears. Non la conosco. Non la conosci perché è a metà tra la New Romantic e la New E. perché io so che se ti piacciono i brani di New Romantic ti piacciono pure quelli la di New E. Non la conosciutto. L'unico. Il trattato. Grazie.